Ciao a tutti ragazzi, io sono Alessio e oggi volete tornare qui con un nuovo video, anzi il primo video del canale dove mi accompagniamo di Cristian Bella Ora, con il nuovo aggiornamento, signori e signori, è uscita la nuova mappa di Olvia Ciao per due E oggi andremo a decretare chi sarà il vincitore di questa mappa E chi la riuscirà a finire per prima si aggiungerà 100 euro in bambini Che potrà spendere l'acqua A piacere il tuo Quindi niente, siamo pronti e ci vediamo quando facciamo Ok ragazzi, siamo ritornati Siamo entrati E possiamo dire una cosa, questa è la prima volta che proviamo questa mappa Quindi siamo entrati ora, non abbiamo capito ancora come funziona con questa parte Siamo tantissimo Guardate quando siamo forti Siamo sulla cava Allora Allora, io sono arrivato solo E pure io, pure io Allora Eeeh, muoviti Vediamo com'è questa cosa Oh, sono i gesti sono un po' No, gesti sono uno, è troppo forte Non dire parola, ci lo chiamo la polizia Allora, vediamo com'è procederà Eeeh, speriamo di finirla questa mappa Pensate che non sappiamo neanche quanti metri è Quindi... C'è molto lavoro da fare C'è molto lavoro da fare Nel caso non riusciremo a finirla ci sarà anche una parte 2 Eh, ci sarà anche una parte 2 Eh, ci sarà anche una parte 2 Quindi ragazzi Proveremo a finire questa mappa e ci vediamo Quando siamo un po' più in là Dai signori, vi do aggiornamenti Anche gli aggiornamenti non ci sono perché Siamo appena caduti tutte e due Siamo... siamo molto... Allora, quanto è bello Quanto è bello fare ogni app Quanto è bello Quanto è... Per cavolo Qua? Mi sa che questa mappa la competeremo sicuramente Questa è una cosa di più Non voglio credere che non metri Una cosa di più in una maniera Che non vuoi capire Cristiano, ma tu hai... Quanti pesi sei? 108 100? 10 Ehm... Io neanche sono a 60 Nel caso... Nel caso... Andremo a fare anche... La mappa cià per uno Che questa qui... Da mi può odiare Non lo conosco Però... Sì... Se... Sì... Permetti Allora Allora... oh oddio wow finito la mappa si va bene ragazzi mi diamo aggiornamenti se arriviamo a 200 metri mi devo fare aggiornamenti oh malonna ragazzi non dire ma come si fanno andare avanti con le mani con le mani allora ma se io vado qua io ho paura perché ma perché non ci voglio non ci voglio ma qua dove ci devo andare dove devo andare tutte noi ah 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 ragazzi il video finisci quindi grazie Bacchè! Facciamolo in minuti di dice Niente, orla... No ma... Alessi abbiamo fatto il 5 mini un video Senti che la facciamo più Oddio lei! Ho trovato qua! Guarda vieni con me, vieni con me! Guarda dove l'ho trovato! Viene all'inizio. Da sopra ci sono una casetta che ci puoi, Se si vuoi sopra ci sota, Qual è il portale che ti fa andare. Sesta casetta questa, che non sono comunque un bel zio al marchio. si sa cosa il risultivo io io ci riesco mi prendo il giampone no che cavolo fai vabbè se ce la farò vita ce l'ho fatta ce l'ho fatta ma vaffa noi ci ritroviamo anche perchè è la prima volta che proviamo quella mamma noi rimaniamo il giro che facciamo allora andiamo a fare ogni atto normale speriamo che almeno qui in scuola finiamo se non ce la facciamo ci sarà ve lo ho detto già una notevole parte che ci sarà un po' di piatto speriamo e la riusciamo a finire ok ragazzi ci siamo ci siamo siamo entrati da un po' il chapter 1 perché il chapter 2 è stata una una listerazione ora dobbiamo sperare che il chapter 1 almeno il chapter 1 la conosciamo mi ricordo mi ricordo mi ricordo i 2000 metri ecco io sono arrivato qui non ce l'ho detto neanche qui io sono un po' allora ok ragazzi io sono a 150 metri io adesso a quanti metri sei? allora io sto io ho finito la mappa io sto a 0 metri io sono esattamente a 200 metri io adesso sono esattamente a 200 metri ma vai a quel paese che si chiama Bella Bella è uscito il tricolo ragazzi speriamo e sono esattamente a 30 metri via 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 nossa che c'è che cosa è successo no che c'è c'è per me si è riuscita questo video penso uscirà domani perché ora è sera penso che non riuscirò a fare domani eppure dopo domani non riuscirò a fare porca no sto gran figlio di no allora allora parliamo vabbè il video eliminato perché non mi non mi non mi bisogna eliminare questi video ragazzi vi aggiorneremo quando quando arriveremo in chapter arriveremo arriveremo in chapter arriveremo arriveremo in chapter arriveremo in chapter manco dopo le mattine con 200 arriveremo 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 No, era 900 e qualcosa, no, 2000 metri. Ah, sì, 2000 metri era un altro, secondo me la notte. Ma va ragazzi, aggiornamenti, io aggiornamenti tu... Come mi sono aggiornato? No, dai. Maggi! No, adesso... Ok ragazzi, allora, dopo un'ora, in partita, voi, per voi, questo video, non so quanto sarà durato, ci siamo stancati e quindi ho il rehab, forte, se mi potremmo una parte o due, perché ce l'abbiamo fatta, solo che... con questo solo per me, una tesi, un po', si è un po' finita, 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 un po' finita. Sì, è arrivato a 1600 metri dopo, mi si scollegato forte. No, non ho avuto tempo neanche, e se vi parla del fatto solo di nessun sangue, un po' finita, un po' finita. Oh, vabbè ragazzi, che vi dico buona. Grazie a tutti per il video, che per il primo video, ci vediamo un altro video, per il prossimo video, che era appena di me di diretta, Grazie a tutti